Amici, coperchi e pomelli, come state? Benvenuti in un nuovo episodio, dovrebbe essere il settimo della Stoneblock Eh? Buongiorno, buongiorno, sto registrando di mattina questa volta, quindi ho la voce un po' rauca, mattutigna, addormentata Come sempre, vi ricordo, perché devo ricordare, voi siete dei, non lo so, vi dimenticate di lasciare like E vi sedete, vi accomodate, e chi è tornato da pranzo, e chi è tornato da cena, e chi è tornato da, non lo so, dal lavoro, da scuola Da, 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 non lo so, e dall'aldilà, addirittura, tanti guardano dall'aldilà, e però il like non lo lasciate, vi dimenticate E boh, lo lasciate, perché, io l'ho ricordato io, e chi sono bravo se vi ricordo le... ma questo è un boss, mi sa, perché si rigenerano la vita Morto? Oh, stavo, 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 stavo morendo, stavo morendo, stavo morendo Come va, ragazzi, come va? Allora, dite nei commenti, in questo momento, eh, che, che, che tempo fa da voi Perché da me, c'è nebbia, raga, la nebbia, 28 gradi il pomeriggio, la nebbia Diciamo, diciamo, boh, parca di quella paletta anglosassone, qua Ah, un po' di roba abbiamo trovata Dove eravamo rimasti Nell'episodio scorso di ieri abbiamo trovato, abbiamo trovato, abbiamo anche affattato il trapano Ma ci serve la corrente per poterlo utilizzare Quindi, io andrei a cenare, qui, andrei a cenare qui nel gioco Perché ho fame, eh, non facendo più legna, non ho più, eh, mele Quindi, potrei fare un albero di mele Ora, io, quello che volevo vedere qui, è un apple Ok, con l'apple, che ci si può fare con l'apple? Uh, a parte giocare, fare, no, beh, quello è l'apple del computer Ma non posso fare tipo l'albero di mele, eccolo qua, tre mele e un albero Tre mele e un albero, signori, tre mele e un albero Quindi, io dovrei, angosciamente, fare così Guardate, guardate, guardate Facciamo crescere l'albero E poi, quasi quasi, ci tagliamo le foglie Perché, eh, con questo algegguo qui Che poi ho scoperto, ragazzi, ho scoperto Guardate un po' una cosa Guardate un po' che possiamo fare Dopo vi dico un'altra cosa, ragazzi, per quanto riguarda i server Che mi state asciugando l'anima Ora ve lo dico, eh Ora ve lo dico, fate molto calmi Fate, fate molto calmi Quattro di questi dovrei fare quello potenziato Ora, vorrei dire una cacata Minecraft! Ok Come in vecchi tempi che si blocca Minecraft Uh, a, u, a, u, a, qua Boom! Sembra una chiave inglese, guarda, una chiave, una chiave Però, invece, guardate Bambete! Molto veloce, molto veloce Dovevi darci le foglie, giusto? Ci da Ci è andato un cazzo Ci è andato Ci è andato un cazzo Ah, ok! Aumenta la percentuale di drop Credo Devoce di attacco Danni per colpo E però non mi ha dato manco Non mi ha dato manco un coso, però Cioè, a che serve sto coso? Non mi ha dato manco un verme Facciamo che carichiamo questo Abbattiamo l'albero Ragazzi, allora Tanti di voi dal video di ieri Hanno acquistato il server da Gamehosting Per poter giocare Eh, se avete il computer lento O vecchio O non so che che non regge Potete acquistare un serverino E con quel serverino Appunto Avviare il gioco al PC Ma poi la mappa Costruirla sul server Quindi vi toglie un grosso peso Molti di voi Hanno comprato il server da 1 giga Se non erro 1 giga Per questo modpack Non basta ragazzi Non basta Ne servono minimo 4 Ma questo è un consiglio Per non farvi spendere E buttare i soldi Per niente Perché per far andare Questo server Questo modpack Ne servono minimo 4 Che però non è questo Quasi tutti i modpack Servono minimo 4 giga Ma minimo Perché Anche al PC Per esempio Se voi avete un PC vecchio O un PC Con poca RAM Vedrete che Non vi partirà il pacchetto Vi crashano i mondi Tutti i problemi Che state avendo Se poi andate a comprare Un server Che è quanto al vostro PC Eh Avete fatto il nulla Vi ricordo che Mosting.it Link in descrizione O guardate il video scorso Comunque vi metto anche qui Lo screen Di dove trovarlo Ah e molti di voi Non trovavano il pacchetto Amici cari Guarda tosse Amici cari Non trovavano il pacchetto Perché il pacchetto Non si chiama Stoneblock Ma il pacchetto Si chiama Ho messo a cuocere una mela Perché ho fame Sono un pirletta Potevo fare come l'albero Ma il pacchetto Si chiama proprio Luke 4316 Cercate Luke 4316 Tra i modpack Capito Non cercate il stoneblock Perché non lo trovate Poi non so se Lo hanno aggiornato sul sito Adesso non so Comunque andate su gamehosting.it Andate alla sezione modpack Cercate Luke O cercate stoneblock Uno dei due Voilà Dai Dammi le mele Dammi le mele Dammi le mele Dammi le mele La vuoi la mela La vuoi la mela E se tornasse La 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 Come Non cacchi si chiama La 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 crazy map Amici cari E se tornasse La crazy map Tornasse Allora Cerchiamo di buttare Giù un altro albero Facciamo un'altra mela E ci vediamo Trapechip Trapechip Non è che è passato così tanto Così molto Guarda quanti vermi stavolta Uiii Guarda che sto albero Affruttato come Non lo so eh Porca di quella paletta Anche i vermi Si possono mangiare Se non erro sbaglio I vermi Si possono cuocere Vero Tendiamocene giusto cinque Magari Serviranno Per fare la lana Qualcosa Allora Non raccomando Porca di quella paletta Boom Si possono cuocere Fantastico Allora Tre Mele E un albero Bambete Bambete Esce l'albero Che non cresce così Ma noi abbiamo il bombillo Qua città di una roba Che mi avanza Dalle ambaradam Voilà Arca di quella paletta Arca voi Tragola Allora Mettiamo qua Via questo Via quello Via quell'altro Andiamo a prendere Del bombillo Tanto le ossa Le abbiamo fatte Se vi ricordate La bolla L'ambaradam Delle ossa Con questo qua Facciamo crescere L'albero Pam Bello Mi piace Mi piace Quest'albero Mi piace Consumare Tutto il bombillo E l'albero L'albero Ehi Ehi Ne Che 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 Allora Andiamo i vermi I vermi Sono da mangiare I vermi si mangiano Amici I vermi si mangiano Vediamo un po' Cosa ci da Ci da un Cosciotto Va bene Giusto per Rallegare La giornata Bene amici Qua abbiamo 25 stack Più 30 Ottimo Allora andiamo a dare uno sguardo al book Al book Abbiamo sbloccato un po' di cosette ragazzi Possiamo fare già la prosperity Da qui sotto in poi nulla Vabbè qui sto forse un po' esagerato a iniziare adesso Ma qua abbiamo sbloccato un po' di robette Iniziamo a fare la survival generator Ok? Survival Survival Iniziamo a fare un po' di corrente Survival che si ricorda le vecchi mod pack Quando Luke riportava Il problema principale e fondamentale Delle nostre serie, delle mie serie Era proprio là Indovinate un po' Indovinate un po' Dai indovinate Dai che lo sapete La corrente Io ho un debole per la corrente A parte che è la mia cosa preferita nel gioco Proprio la corrente Essendo elettricista Essendo appassionato Non è solo quello È che la corrente a me non mi bastava mai Quindi scleravo Porca ciabatta Della Reddiston Devo picchiare sempre questi Che sono una missione Io qua non la faccio più Lo zomboco Facciamo prima di questi Che rompono le miseracce Vai muorici Ma così è finita Sto ma Devo potenziare sti cosi Li devo potenziare Quanto mi manca Per salire 8 colpi e sale di livello E dammi durabilità Per favore 8 colpi 2 3 4 5 6 6 Salito È salito È salito Ma sono mille Che mi ha dato Com Comfortable Ah Buono Comfortable Buono La durabilità è rimasta quella Un blast Ora Dai muorici Dai Fischia Ehi Mi ha dato la La zainetta Mi ha dato Mi ha dato la zainetta Mi ha dato Due zainetta Dammi qualcosa di buono Ah va E questi sono quelli epici No le rare Quello di buono Una chiave L'ha perso anche Abbiamo trovato la chiave Del mio cuore Allora Via questo Via questo Via quello Via quell'altro Tutto il suo casino Prende la redstone E poi la redstone Non l'ho presa 1 e 2 Eccole qua Redstone Bambete Wallah Devo cominciare Sai Ferro Non ho del ferro Qui No perché ce l'ho qui Yuppie Non ho il ferro Lingotto di ferro Eeeh E' sempre che ti lamenti Stai La la Perché non va Che è sta roba Ma è cobblestone Ma porca di quella paletta Survival generator 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 Poi la metto qua La metto qua La metto qua Ragazzi Qui A parte l'upgrade Che io non ho Non ho Cacchio Questi upgrade Non quelli là Allora Qui Andando a mettere Della legna O del coal Amici cari Porca paletta Sapete che succede Che fa la corrente Fa la corrente Pam Fa la Fa la corrente Voglio vedere una cosa Se io adesso lo rompessi E lo ripiazzassi La corrente Svanisce Ottimo Quindi Attendiamo a farla Ragazzi Abbiamo la prima generazione Di corrente Io sono contentissimo Io ci tengo pure qua La clemata Qua ci prendo La clemata Ora Ora Vediamo un po' Dove va ricaricato Questo trapano Ok Dove si può ricaricare Il trapano Premendo la U La U Dynamo Ah Dynamo E Ambaradaskia Dynamo E Energia Nella 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 Charged O se no O se no O se no Non lo so Dynamo A inervazione Dynamo A inervazione È smostra Dynamo Dove Il cacchio è Da 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 Dynamo Dynamo Kiev Ah Dynamo Kiev Giusto Vapore Magnetico Compressione Inervazione A inervazione Eccola qua La cacata Una cacata Ma Sicuri Siamo sicuri Che possiamo utilizzare Questa cosa Estrae Flusso Da vari oggetti Sì Devo fare L'elettrocardiogramma L'elettro L'ingotto D'elettro Come si fa Sto coso Come si fa Sto coso Argento E oro Wow Argento E' fattibile Sissimissima Sto cosa Tanto trovai Questa cosa qua Trovai Sollecitudine 2 Ah Bene La farm Sta funzionando La dio A sto giro Una bag Wow Cose molto Interessanti Mi dicevano Certo 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 Questo qua Cosa sarebbe Upgrading plate Non posso metterlo qua Vero No No perché Questo è quello doppio Allora a parte di mangi una mela Ragazzi Ho scoperto una cosetta Invece di fare la Dynamo Kiev Facciamo un'altra cosa Facciamo l'Energetic Che potrebbe essere l'Energetic No Non è questo Ma questo qua L'Energetic Infuser Una cosa del genere Infuser Vabbè Con la cosa lì No Che non è difficile da fare Guardate Allora Servono un po' di materiali Che dovremmo già avere Oltretutto Andiamo un po' Copper lo abbiamo Me ne servono Due Eh Due Quindi Otto Ok Sei Sette Otto Poi abbiamo Lo stagno Abbiamo un po' di cosette Mi mancano altro Mi manca il silver Il gold Quindi Magari facciamo un po' di cosette Due gold vengono Eh No Alluminio no Copper ce n'è ancora Il lead Mi servirà Questa volta mi servirà il lead Forse due Sono pochini Poi mi servirà Eh mi sa che devo grattignare qua Devo grattignare un po' di roba Raga Devo grattignare un po' di roba Iniziamo a cuocere Ho cotto anche del vetro Già che ci siamo Devo grattignare un po' di roba Allora iniziamo a fare Due di queste qua Dovrebbero essere così Fantastico E ne abbiamo due E qua ci siamo Una di lead Che non abbiamo Però Me ne servirà una Così Se non erro Ok Dovrebbe servirmi così Perché per fare questo Ottimo Quattro ferri E Quattro di questi qua Ok Quindi ragazzi È arrivato il momento Di andare a grattignare Sì Andiamo a grattignare Un po' di Di ambaradam qua Allora Io farei un bel po' di ferro E farei altre tre Di queste sezioni Che ne pensate È una cosa Brutta Quella che ho detto Così magari poi Grattifiniamo a nove alla volta Eh È una figata Facciamo tutto lo stack Insieme E poi magari gli altri Me le gratifigno Questa parola anglosassone Grattifignare Me le gratifigno In Dualshock Cacchina che vuol dire Dualshock È off camera Porca paletta Ok Bambete Abbiamo fatto un po' di robetta Vedete Abbiamo fatto un po' di robetta Pampete 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 Uno stacco di iron Uno stacco Vabbè quella cosa lì Di iron Anzi più di uno stacco Eccolo qua Ben 18 da fare Ottimo Io direi che forse ci siamo Forse ci siamo Mettiamo a cuocere questo Bambete Allora Iniziamo col Completare questa ambaradam Che me ne viene uno Voilà Poi abbiamo bisogno di Questo cos'è Silver Ok Ah la redstone Questa è la redstone La redstone Ah l'ho trovata un po' Yes Silver Abbiamo qualcosa di silver Solo due Porca pauscia U No Non un maer Allora Dalla Dalla Vediamo un po' Col ferro Iron Dalla sabbia Dalla sabbia Dalla sabbia Dalla sabbia Dalla sabbia Porca paletta Porca valero Dalla sabbia Dalla sabbia Dalla sabbia Ben pochina Ah Questo episodio è andato a finire A chiacchiere E a A grittifignare qua Vediamo un po' Sono uscito qualcosa di silver Via tutto Ui Questi qua servono Ai prosperity Raga Servono per l'altra quest Allora Vediamo un po' Che abbiamo concluso Silver Vi han detto Silver 5 5 ce ne da Uno Uno già lo avevamo Uno già lo avevamo Forse un altro da cuocere No Questo che roba è Ah no Questo è tin Allora Iniziamo col fare così Fantastico Guarda qua Bam Anzi Lo portiamo a 64 Lo portiamo a 64 Ok Altro ferro Altra corsa Io direi che siamo a cavallino Siamo a cavallino qua Se io ho già un silver Eccolo qua Con due redstone Facciamo un piroracco Me ne servono due Ok E questo qua è invece d'oro Oh Le abbiamo le cose Le abbiamo le cose ragazzi Eccolo qua Abbiamo tutto Questo di Lead Lo abbiamo Mi manca solamente il silver Dov'è Silver Eccolo qua Qua c'è il silver Gentilmente Sto facendo tanta roba inutile Oddio inutile Dai dai Facciamo altri cosi di ferro Dopo Prendiamo la lana qua La lana E facciamo altri cosi di ferro Che non mi ricordo più Come si fanno Eh Ora com'era 4 di ferro E 5 di lana Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ne possiamo fare 3 Voilà Altri 3 E questa è una cosa ottima ragazzi Guardate 1 2 E poi ne anche da solamente 1 Voilà Prendiamo Questo qui Lo mettiamo lì Facciamo così E abbiamo tutto Bam Infusic Energetic Se noi lo mettessimo qui Dimmi che passa la corrente Dimmi che passa la corrente Dimmi che Oh My Lady Road Lady Road Mamma mia Vedete 1000 Allora ne sono 40.000 40 40.000 Non mi ricordo Per il nostro Super Mega Gigantescolo Trapano Wow Si sta ricaricando Si sta Ma non si ricarica Ma non si ricarica Perché non si ricarica Dove dire qualche cosa Dove dire qualche cosa Diciamo una cosa tipo A cancellazione Ma si voglio cancellare qua Auto input Ma si che si sta Ricaricando Si che si sta Ricaricando Si che si sta Ricaricando Lo andiamo a provare Lo andiamo a provare Ragazzi Allora Com'era la V Eh Uno per due Vediamo un po' Oh 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 Che figa Ma io questo qua Lo posso addirittura Potenziare Con Con L'Invar L'Invar Per esempio Si fa in un modo Anglosassone Due pezzi di ferro E un metallo Ferroso Sarà il nickel Però Ci vuole Eh 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 Ragazzi Qua ci vuole Il pulverizer Quanto pare Quanto pare Ci vuole Il pulverizer Pulvera Pul Pul In italiano Ma cacca Si chiama in italiano Pulverizer Eccolo qua Polverizzatore Devo cambiare Stambradamo Copper Oro Lo abbiamo Eh Lo abbiamo Lo abbiamo Ragazzi abbiamo tutto Copper e oro Abbiamo tutto Raga abbiamo tutto Raga abbiamo tutto No forse ci mancano Quattro copper Raga abbiamo tutto Raga c'ho il copper Raga c'ho il copper Un copper Raga c'ho il copper Dove è il copper qua Arriva a quattro Raga c'ho il copper Raghi C'ho il copper Allora andiamo a cuocere Il copper Ferro Qua non c'è nullo Cuociamo questo Raghi E il tin Il tin Il tin Tin Cavallin Tin tin Cavallin Tin tin Cavallin Vado Vendotto Vendotto Parmacotto Sto episodio è infinito Vendotto Tin tin Cavallin Voila E voila Quasi fatto eh Quasi fatto Due flint Non abbiamo la flint C'è oddio Aspetta Aspetta Rosi cari in questo modo Ho detto poc'anzi Non abbiamo la flint È un parolone Boom Ecco la flint Allora 5 89 Siamo due di flint Gli altri li metto qua Mi ricarico questo qua Bambete Ok grazie amico Allora abbiamo detto che Questo qua è facile Tre pezzi di legno Quattro cobblestone Oddio Non ho legno Oddio Dai Non rompere le scatoline Però eh Ma come non ho legno Chi l'ha detto che non c'ho legno Chi l'ha detto che non c'ho legno Dai via tu Poi mi dimentico Lo appoggio qua Allora Chi è detto che non c'ho legno Tre pezzi di legno Boom Un ferro Boom Redstone Boom Cobblestone Boom Al contrario Boom Ce l'ho Ce l'ho Allora Il copper Qua Non è copper Comunque Qua Altro di questo Altra corsa Sto impazzendo Sembra che sto impazzendo Ma sto ragionando Ci sono Ci sono C'ho anche questo d'oro Raga Mi manca solo il mare Fatte qua Allora Tin tin cavallin Qua Boom Fatto Che ci vuole Fatto Poi Abbiamo detto che Vetro Vetro Non c'ho il vetro Non c'ho il vetro Non c'ho il vetro Porca di quella Porca tratta Non c'ho il vetro Dove cacchio Ce l'ho il martellone Martellone Qua Ma sto impazzendo Con la z Z Z Boom Fatto Ora Facciamo così Toglio tu delle scatole Boom Bam Bam Boom Boom Bim Dai 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 Z 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 Abbiamo la plastica Quindi facciamo Un po' di vetro Che servirà sempre Che servirà sempre Wuh Wuh Frattembo Io posso mettere qua Caricare No Forse è inutile caricarlo Perché se facciamo l'upgrade È un casotto È un casotto Poi perdiamo la caricatura La caricatura Vabbè Il cappello c'ha questo Il cappello gigante È vero che c'è la moto dei cappelli Uh Raga Quanti zombie Dai che ci siamo Ma qui sono zombie travestito Era uno scheletto Dai che ci siamo Le bistecche marce Dai che mi siamo Le bistecche marce Per la quest Dai forza amico E non mi dà le bistecche Ma guarda lì Ma guarda lì Oh allora Non muore Dai Non muore quel coso Oh Raga non muore È morto Oh Ma ha troppato una cosa Blu strana Forse un pezzo di armatura Dove una spada Sì Vado a ricaricare Qua c'è altro agenti Sempre scheletri 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 Basta scheletri Ti voglio gli zomboli Eh E che diascoli E muori La cosa blu Era il caschetto Uh Due caschette addirittura Guarda qua Una carota Un po' di robetta L'han droppata Eh Abbiamo un caschetto Guarda che stiamo diventando Burattini Così ci copriamo la skin Di Babbo Natale Eh Allora Il vetro l'ha fatto Ottimo Andiamo avanti qua Facciamo questo Ambaradam Eccolo qui Bom 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 Ragazzi Abbiamo anche il pulverizer Io non so se mi sto spiegando Ma perché non si azzera Ah ok con shift Così Fantastico Ragazzi Abbiamo il pulverizer Io non so se mi sto spiegando chiaro Abbiamo il pulverizer Quindi se io pulverizzo il ferro Che dovrebbe pulverizzare Che dovrebbe pulverizzare Infatti Molto lento Perché abbiamo poca corrente Poi pulverizziamo anche il nickel E che E che nickel E ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Che abbiamo un quadrato da roba Figa Ciao Buongiorno Un abbraccio Ciao a tutti Ciao a tutti